bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi notizie dell'ultima ora la season è stata nuovamente posticipata è arrivata nelle prime ore della serata verso le 10 e 30 di ieri ragazzi e ci sono tante motivazioni per il quale è stata posticipata per la seconda volta motivazioni che io sicuramente condivido ne parliamo adesso nel video insieme a dei dettagli e a delle news dedicate ovviamente al battle royale prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo canale lo trovate nella home page e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i video news e allora ragazzi andiamo direttamente torniamo a seri anzi siamo serissimi leggiamo innanzitutto quello che dice epic games alla comunità di fortnite gli ultimi eventi ci ricordano in maniera pressante le ingiustizie della nostra società dalla negazione dei diritti umani fondamentali all'impatto del razzismo esplicito ed implicito che sia contro le persone di colore siamo ben consapevoli delle sofferenze che i nostri amici compagni di squadra giocatori e comunità stanno soffrendo crediamo nell'uguaglianza e nella giustizia nel pluralismo e nell'integrazione valori fondanti che devono precedere le opinioni politiche il team non vede l'ora di continuare a far crescere fortnite ma dobbiamo bilanciare il nostro desiderio di lanciare la stagione 3 con il bisogno del nostro team di prendersi una pausa per concentrarsi su di sé sulle proprie famiglie e comunità l'evento in diretta il dispositivo sarà posticipato a lunedì 15 giugno mentre il lancio della stagione 3 sarà posticipato a mercoledì 17 giugno ci rendiamo conto che questo sarà il secondo posticipo consecutivo e vi siamo grati della pazienza e della comprensione in questi tempi difficili allora ovviamente si parla del dramma di george floyd due parole per chi non sapesse di cosa sto parlando anche se mi auguro che lo sappiate tutti il 25 maggio un uomo quindi durante il pieno periodo della quarantena anche negli stati uniti un uomo è stato sospettato di utilizzare una banconota da 20 dollari falsa per l'acquisto di sigarette in un negozio in america è intervenuta la polizia le forze dell'ordine sono intervenute e un agente per 8 minuti e 46 secondi 9 minuti ha immobilizzato a terra l'afroamericano tanto da non permettergli di respirare in quanto aveva appunto il ginocchio proprio sulla parte del collo che appunto essendo compressa non permetteva di ossigenare nei polmoni e ovviamente di non far arrivare il sangue al cervello il problema è stata la tragedia che l'uomo non ce l'ha fatta è deceduto e questo ha sconvolto ovviamente l'america avrete sicuramente visto i telegiornali starete guardando ciò che sta succedendo in tantissime città americane dove sono esplose appunto delle rivolte in quanto gli agenti erano quattro e sebbene fosse uno solo a compiere questa manovra gli altri tre agenti non hanno fatto nulla nonostante nei primi minuti l'uomo dicesse non riesco a respirare questo giustamente essendo anche epic games molto vicina sicuramente alle comunità americane e avendo degli sviluppatori che arrivano appunto da quelle parti decide ed è giusto che abbia deciso di posticipare nuovamente la season io posso capire che per noi questa cosa è molto particolare da capire nel senso perché da noi non succedono queste cose non così nel senso adesso non siamo qua a fare ovviamente il telegiornale mentre quando succede una cosa del genere e scuote così tanto un paese è ovvio che non si può pensare di andare avanti come tutto come se niente fosse successo non c'è spazio per il divertimento non c'è spazio appunto per la felicità il che mi porta nuovamente a dire che è corretto dare tempo di riflessione a tutte le persone che lavorano dietro fortnite in modo che tornino il 15 giugno che in realtà non è ovviamente una data che può permettere di dimenticare ma lavorativamente parlando è obbligatorio per loro cominciare la stagione 3 e doveroso farlo ovviamente per un discorso di business ovviamente quindi ci aspettiamo ragazzi tante cose e abbiate ancora un pochettino di pazienza cerchiamo di avercela tutti ragazzi non si può dire niente contro una cosa del genere andiamo avanti al prossimo argomento di oggi ragazzi lo sapete di conseguenza anche lei è l'oser fruit per chi non sapesse che è questa ragazza sappiamo che deve uscire la sua skin una nuova icon series l'abbiamo anche già vista abbiamo un'immagine tra l'altro della vecchia skin di l'oser fruit che è stata posticipata ci sta è ovvio non sappiamo quando ma sappiamo che hanno comunque fatto dei dei lavori delle modifiche estetiche e questa dovrebbe essere come si presenterà la skin in game quando decideranno di inserirla nello shop devo dire che guardiamo un secondo la differenza come notate ragazzi c'è molto più dettaglio ora l'immagine probabilmente è stata leggermente ritoccata per i colori però se noi guardiamo invece i dettagli direi che ci siamo alla grande quindi l'oser fruit arriverà nello shop passiamo poi invece al donato io quando quando il donato mi fa queste cose ragazzi non ce la faccio non posso non farvelo vedere non rie io sono amico del donato ragazzi mi voglio bene gli voglio bene come un fratello perché mi cambia di prepotenza la copertina quando mi cambia il donato la copertina o la location sono sempre sul chi va là ragazzi dobbiamo sapere un attimino è il capoccioni di epi games ovviamente il signor donato mostarda quando qualche giorno fa l'altro ieri cambia la copertina della sua pagina twitter mette un'immagine che potrebbe farci appunto pensare al tema della season 3 che abbiamo già capito che è l'acqua è una spiaggia sconfinata con un mare che si perde all'orizzonte non è altro appunto che quello che dovremmo immaginarci nel prossimo capitolo di fortnite tanta tanta acqua che si dice però dovrebbe lentamente scendere più passeranno i giorni non è nulla di confermata questa cosa che vi sto dicendo però i leakers che ne parlano sono affermati e quindi ci sta poterla pensare come vi ho detto anche ieri un po come il il ghiacciaio che nella season 7 bloccò per quasi tutta la season il castello dove poi appunto ci fu l'evento del re dei ghiacci andiamo avanti a parlare di un altro argomento di oggi perché c'è una nuova collaborazione di asbro con epic games un nuovo giocattolo che fa parte della serie di nerf quindi un'altra compagnia che produce con fortnite ormai sono già un paio danni che fa le pistole giocattolo che sparano appunto i pallini di gomma ha fatto una riproduzione del tac addirittura un rpg prezzi anche abbastanza accessibili parliamo di 15 20 30 euro abbiamo un nuovo gioco estivo come vedete qua lo stiamo vedendo nella sua scatola ve lo faccio vedere invece fuori è una specie di robo credo per bambini credo oppure cioè ovviamente per per bambini come vedete ha un grilletto proprio sotto l'occhio vicino alla copertura del dell'orecchio del nostro pesce secco e dalla bocca sparerà acqua quindi un altro gioco acquatico molto divertente collaborazioni che comunque fanno sempre piacere da far vedere e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi potrebbe anche essere l'ultimo non c'ho qualcos'altro da farvi vedere sta girando questa immagine ragazzi io vi dico sempre attenzione a non farvi infinocchiare ragazzi questa immagine è totalmente orca miseria la campana è totalmente fake è un concept fatto da qualcuno molto bello ovviamente davvero fatto benissimo i colori sono giusti la la presentazione è quella giusta ma è fake quindi se c'è qualcuno in giro che spaccia questa immagine come veritiera no diffidate perché non ci siamo no direi che siamo arrivati alla fine anche per oggi del video news chiedo su se mi sono dilungato un po tanto all'inizio del video ma ci tenevo a rendervi anche a voi aggiornati qualora non avesse in niente chiaro quello che sta succedendo che già non ci bastava avere la pandemia purtroppo dobbiamo anche sopportare queste cose io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali anche al secondo canale dai ragazzi ea me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 Grazie a tutti